Orizzonte e Nuoto Catania tornano da Roma con stati d'animo, pressoché opposti. Il pomeriggio di Recuperi ha visto le due formazioni protagoniste al Foro Italico, ospiti rispettivamente della SIS Roma e della Roma Nuoto. Sorride la squadra allenata da Martina Miceli, che batte il maestro Pierluigi Formiconi e rilancia l'Orizzonte nel finale di stagione della Serie A1 femminile. Le etne mettono in vasca una grande prestazione premiata dall'8-15. Di Mario e compagni vincono ognuno dei quattro parziali trascinate dal poker del capitano e dalle cinque reti di una Monica Eggens decisiva riapparsa nel tabellino delle etnee dopo la scena muta di sabato scorso contro il plebiscito Padova. Soddisfatta a fine gara Martina Miceli, che sottolinea le prestazioni di Arianna Garibotti e Roberta Grillo e poi loda l'atteggiamento del gruppo. Abbiamo giocato davvero bene, facendo la partita che avremmo dovuto fare anche all'andata senza forzare o farci prendere dalla foga di doverla chiudere subito. Abbiamo portato tanti contropiede, molti non li abbiamo concretizzati perché non volevamo che andasse a come a Catania quando loro arrivavano 1 contro 0 o 2 contro 1. Abbiamo quindi avuto buoni segnali che confermano come tutto dipenda sempre da noi, lo sapevamo prima di questa sfida e lo sappiamo ancora di più adesso. La classifica vede ora all'orizzonte riprendersi il terzo posto ai danni del Bogliasco, proiettandosi alle ultime due gare della regular season contro Milano e Cosenza con l'obiettivo minimo di preservarlo in ottica Final Six e magari sperare in un doppio passo falso della Waterpolo Messina impegnata sabato contro il plebiscito Padova. A Mara invece la trasferta romana della Nuoto Catania, la squadra allenata da Peppe Dato cede 15-10 alla Roma Nuoto, gli etnei tornano in Sicilia con molti rimpianti. Cacciare e compagni infatti erano riusciti a tenere in bilico la partita fino all'ultimo quarto. 4-4, 3-2 e 2-2 i parziali delle prime tre frazioni che hanno lasciato sperare nel risultato pieno. I rossazzurri invece si sono sfaldati negli ultimi otto minuti cedendo con un 6-2 parziale ai capitolini. Il commento di coach Dato a margine del match non può non essere carico di delusione. Nei primi tre tempi abbiamo giocato discretamente, afferma il tecnico catanese, salvo poi crollare nel finale per un punteggio che non rispecchia comunque l'andamento dell'incontro. Dispiace molto, spiega coach Dato, perché ho visto in acqua una squadra attenta e vogliosa. È vero che siamo stati a volte imprecisi e frettolosi, ma eravamo in partita, anche con una difesa che ha pagato forse l'uscita per infortunio di Pellegrino nel primo quarto. Siamo semplicemente usciti dalla partita nel finale. Classifica immutata per la noto Catania che però vede svanire l'opportunità di agganciare la vetta, restando appaiata alla Reiki al secondo posto. Il cammino degli Etnei ripartirà sabato alla Scuderi dove andrà in scena l'ultimo derby stagionale contro il Telimar Palermo, contro il quale servirà a vincere in ottica secondo posto.